Diceva Franco Basaglia che la follia è una condizione umana e che in noi esiste ed è presente esattamente come lo è la ragione. Siamo un gruppo di persone impegnate nel sociale, in particolare nell'ambito della salute mentale. Lavoro per la cooperativa sociale Intrecci e Ollus e in questo progetto collaboreremo con la cooperativa sociale Stripest, con le associazioni di volontariato di familiari e pazienti per la salute mentale, incontrò Iroh e porte sempre aperte di Garbagnate, con le SST Rodense e con il liceo artistico Lucio Fontana di Arese. Perché siamo qui? Dalle camere del reparto di psichiatria i pazienti si appacciano su un muro, un muro grigio, un muro sordo. Siamo qui per colorarlo. Umanizzare uno spazio di cura è possibile. Siamo qui per realizzare un grande immorale e colorare questo muro che si affaccia al reparto di psichiatria. Realizzarlo insieme ai pazienti ricoverati all'interno del reparto, ai loro familiari, agli operatori, per donare e offrire bellezza a chi sta male. La bellezza offre una dimensione terapeutica. Con il tuo contributo attiveremo un atelier di arte e terapia all'interno del reparto di psichiatria dell'ospedale di Garbagnate. Il progetto è stato selezionato dalla Fondazione Comunitaria Nord Milano. Il loro contributo diverrà effettivo solo grazie alla tua donazione. Puoi donare anche tu. Tu? Tu anche di più.